Valdichiana, buonasera e buon pomeriggio, bentornati alla sesta puntata di Giardino Valdichiana. Tanti ospiti anche questa sera come in tutte le nostre puntate. Entriamo subito nel vivo perché, come vi ho detto, sarà una puntata ricchissima. Nelle scorse episodi vi abbiamo già parlato di Santa Agnese, la santa tanto amata dai poliziani, un po' intrinza nel nostro DNA. Quest'anno tanti gli eventi che la ricordano e la omaggiano, tra i quali Santa Agnese, la santa poliziana, è stata anche scelta come il tema del 78esimo Bruscello di Montepulciano che andrà in scena domani, sabato 12 agosto fino al 15 di agosto, qua a Montepulciano in Piazza Grande. E sono venuti a trovarci i protagonisti di questo Bruscello, ovvero il maestro Luciano Garosi, l'autrice del libretto Letizia Toffanini, il regista Marco Mosconi e Chiara Protasi, la santa Agnese, santa Agnese in carne ed ossa. Allora, un Bruscello già nato qualche anno fa, diciamo così, perché è già da un po' che è in cantiere. Come, maestro, come hai lavorato sulle musiche e di conseguenza, Letizia, come hai lavorato sui testi? Allora, io ho fatto un salto da un santo a un altro perché il mio ultimo Bruscello era fatto nel 2010 di San Francesco. Allora avevo dichiarato che avrei interrotto la mia attività come autore dei Bruscelli, però mi sarei reso disponibile a scrivere un Bruscello su Sant'Agnese, la cui vita io ho studiato perché ho fatto una tesi in storia dell'arte sugli affreschi del santuario qui di Montepulciano e sapendo che sarebbe stato il settecentesimo anniversario della morte proprio nel 2017, mi ero reso disponibile per fare questo Bruscello. Ci ho lavorato nel corso di questi sette anni, la vita la conoscevo, devo dire, piuttosto bene, ma non era certo un vantaggio perché la vita di Sant'Agnese è una vita da un punto di vista drammaturgico piuttosto monotona, è una santa che è stata santa fin da bambina, quindi non ha avuto nessun tipo di particolari esperienze nella vita, ha fatto semplicemente soltanto miracoli e questo fatto non rendeva certo la possibilità di fare una storia drammaturgicamente interessante per la piazza e è anche uno dei motivi per cui in 78 anni nessuno aveva mai scritto un Bruscello, ovviamente su Sant'Agnese, perché mi immagino che persone come Don Marcello del Baglio, che ha scritto tantissimi Bruscelli, se avesse intravisto la possibilità di una storia atta a essere messa in musica basata sulla vita di Sant'Agnese, l'avrebbe sicuramente fatto. Quindi con la Letizia ci siamo un po' organizzati, abbiamo preso ovviamente gli ingredienti importanti basandosi sulla vita di Sant'Agnese, è stata scritta dal Beato Raimondo Daccapua, abbiamo messo dentro qualcosa di un po' di fantasia che potesse creare un po' di interesse sulla piazza e io perlomeno personalmente sono felicissimo del prodotto che abbiamo fatto. Letizia, a questo punto parlaci un po' di questo prodotto che sta creando tanta curiosità e c'è anche tanta attesa intorno a questo Bruscello. È tanta attesa, immagino, perché appunto non era mai stato fatto, quindi assolutamente sì. Che cosa posso dire? È stata una bella sfida, perché lì per lì creava un certo timore, proprio per i motivi che ha detto il maestro Garosi. Poi tengo io, come vuoi. Poi in realtà parlando, trovando le varie situazioni, siamo riusciti a costruire un Bruscello abbastanza articolato che ha i suoi momenti di festa popolare, ha i suoi momenti di raccoglimento, di rappresentazione sacra, di preghiera, ma anche di sentimenti forti, di passioni, di odio, anche qualcosa di allegro, perché c'è un agguato dei briganti quando Sant'Agnese va a Roma a chiedere il permesso papale per la costruzione del nuovo convento a Montepulciano. Roma, che è abbandonata a se stessa, i papi sono in Francia ormai da tanto e quindi Sant'Agnese con le sue suore si imbatte in un gruppo di briganti e la situazione è abbastanza così brillante, comica, soprattutto musicalmente. È nato, direi, questo Bruscello partendo dalle musiche. Il maestro Garosi aveva chiarissime in testa le situazioni che voleva creare, voleva sviluppare e mi ha fatto capire che cosa andava scritto, in che maniera, con quali tinte, a volte forti, a volte intime, e per questo è stata una bella sfida ancora maggiore, però di grande soddisfazione perché si spazia da ogni tipo di sentimento, quindi è stato divertente almeno cimentarsi in tutte queste diverse colorazioni dell'animo umano e cercare di esprimerle. Mi auguro al meglio possibile. Domani sera lo vedremo. Sfida raccolta dal regista Marco Mosconi, che è la prima volta che lavora con la compagnia del Bruscello e si è trovato anche un po' a dover tirare un po' le fila di circa 200 persone sul Sagrato. Com'è stata questa esperienza e come ti sei anche trovato a lavorare con Luciano e Letizia? Parto dall'ultima domanda, ho detto Luciano, Letizia e tutta la compagnia è stata un'esperienza più che positiva, posso dirlo fino ad adesso. Una sfida che ho accettato perché, come ho già avuto modo di dire, non Bruscello lo conoscevo, ma limitatamente, e quindi buttarsi dentro, lavorare con tante persone, siano quasi 140, alla fine i figuranti sono tante, sempre, come ho detto, entrare in ciò che Letizia e Luciano volevano esprimere, quindi portare all'interno della piazza i loro pensieri e ciò che hanno messo. E' stata un'evoluzione in positivo, perché io sono partito da musicista con la musica, non solo chi l'ha scritta, ma anche io la prima cosa che ho ascoltato, chiaramente, è stata la musica. Riconosco il genio compositivo di Luciano, no? E quindi quella mi è piaciuta. E la scoperta è stata anche nel testo, il testo che non è arrivato subito, infatti mi sono complimentato con Letizia nel corso del tempo, quando ho avuto modo, eccoci, ho capito la musica, ho capito i movimenti, quindi andare a cercare anche il testo che è nato, si incastra insieme. Come stiamo dicendo, sono i miracoli di Sant'Agnese, quindi ha già fatto anche questo di poter unire. Per loro, eccoci, la regia con 130-140 persone, non attori, perché sappiamo che è una compagnia quindi popolare, diciamo, ha posto un po' dei limiti, soprattutto anche nelle difficoltà delle stesse musiche, quindi 120 persone che cantano branni polifonici hanno bisogno più che di movimento, anche di staticità, e quindi è stato un cercare delle figure che potessero raccogliere. Quello che veniva esprimato la vita di Sant'Agnese, quindi, altra suggestione incredibile è stata, eccoci, nelle poche cose, in fin dei conti, la Santa, che è nata Santa, invece di vedere i due ore di musica e canto insieme, la storia completa, ha detto, mi ha stimolato. E soprattutto ringrazio anche in questo caso, perché non è qui anche la mia coreografa, non la dico personale, ma l'ho cresciuta perché da alunna, poi, Maria Stella Poggioni, che mi ha aiutato tantissimo, eccoci nella scelta. Lei curerà le coreografie? Le coreografie, sì, sì, mi consigliavo. Chiedevo a lei cosa avevo in testa, cosa volevo e lei lo realizzava. La mente e il braccio. Un po' un miracolo di Sant'Agnese, ma è anche la vostra bravura che ha portato in scena, che vedremo nel Sagrato del Duomo. Una Sant'Agnese qua in carne ed ossa, perché tu sei la protagonista del settantottesimo Bruscello. Come ti sei calata nei panni di Sant'Agnese, soprattutto anche tenendo conto della loro personale Sant'Agnese che avevano in testa? Ok, allora, è stata una cosa piuttosto difficile, devo ammetterlo, perché io tutti questi anni avevo comunque fatto sempre dei ruoli molto forti. Tra l'altro, quando abbiamo fatto il San Francesco, io non facevo Santa Chiara, io facevo la parte femminile più accesa, più energica e quindi diciamo che fondamentalmente la prima difficoltà che ho trovato è stata sicuramente questa. anche musicalmente, insomma, si sente la differenza, quindi c'è sempre una delicatezza in questa santa che casomai io non avevo in passato. Quindi la prima cosa che ho dovuto imparare è stata proprio cambiare il personaggio. Diciamo che è stata anche una bella notizia quando l'ho scoperto, perché comunque Sant'Agnese è una santa importante per Montepulciano e quindi è stato veramente un onore per me fare questa santa. D'altra parte, ritrovo in me la difficoltà nel farla, perché già il fatto della santità è una cosa molto lontana, ecco, è una cosa che credo si possa immaginare in maniera molto difficile. Quindi, cioè, o sei un attore professionista, e io non sono un'attrice professionista, oppure, insomma, la difficoltà sicuramente c'è. Spero di riuscire, ecco, da domani sera in poi a seguire quello che loro volevano, quello che lui mi ha chiesto, insomma, spero che vada tutto bene, ecco. Un po', abbiamo già un po' parlato delle vostre esperienze legate al Bruscello. C'è un Bruscello particolare che ricordate? Ora, al di là dell'adrenalina che c'è per domani sera e comunque le emozioni si accavallano, ma c'è un Bruscello a cui siete particolarmente legati? San Francesco. San Francesco, il Bruscello del 2010, che avevo scritto io, quindi non posso sembrare presuntuoso, però è un Bruscello che è... Sì, scrivere un'opera, ma un pezzo di musica è un po' come partorire, no? Perché uno se lo tiene dentro tanto tempo, immaginatevi che si scrive la musica senza sentirla direttamente. Poi si arriva a fare le prove, si fanno con il coro, si fanno l'orchestra e quindi questo figlio cresce fino a che poi non si rappresenta. Io dopo San Francesco ho sognato e risentito quella musica per mesi interi, per mesi interi mi sono ricantato le melodie come se avessi un figlio che fosse partito per l'estero e che non potevo più vedere, che potevo solo sentire da lontano. Ecco, San Francesco è stato per me un Bruscello molto emozionante, molto importante. Sì, perché poi le musiche del Bruscello rimangono molto nella testa. Io mi ricordo in particolar modo quella di Romeo e Giulietta che mi rimase nella testa per un mese dopo. Cioè, è fantastica questa cosa. Letizia, invece un tuo ricordo personale legato al Bruscello? Tantissimi, visto che essendo nata a Montepulciano, anche se ho abitato fuori per molti anni, ovviamente li ho visti praticamente da sempre, da appena nata. Quindi mi ricordo, come ho scritto anche nel libretto che giocavo con le scenografie che erano in Polistirolo, noi bambini giocavamo, facevamo tutte le cose per le bambole. Quindi sono musiche che ho sentito da sempre e le storie che ho seguito da sempre, fin da piccola. E che ho sempre vissuto intensamente. Cioè, mi ha sempre molto coinvolto. Io mi ricordo, che so, Paolo e Francesca, Ginevra e Lancillotto, Ugolino. Però voglio ricordare anche i Bruscelli Allegri. Quello che più mi ha colpito recentemente è stato il Decamerone, di cui Chiara è una delle autrici e che, secondo me, era riuscito perfettamente. Brioso, allegro, vivace. Quindi c'è il Bruscello drammatico, ma anche quello vivace. Entrambi sono, per me, affascinanti. Ritorno su Chiara, non perché... Saltiamo, perché a te ti faccio un altro tipo di domanda. Vado su Chiara e non solo voglio un ricordo personale tuo del Bruscello, ma anche come hai deciso di entrare nella compagnia. Che cosa ti ha spinto a far parte di questa bella famiglia? Perché alla fine siete un po' una famiglia. Allora, parto anch'io dalla seconda domanda. Dunque, quello che mi ha spinto a entrare nel Bruscello è semplicemente il fatto che mio nonno è stato uno dei fondatori. e quindi quando io... Io sono nata a Siena, abbiamo abitato a Buon Convento per sei anni, poi appena siamo venuti qua, io ho iniziato a fare il Bruscello. Quindi, diciamo che non c'è stata una motivazione specifica o un desiderio mio personale, se non quello di ricordare in qualche modo mio nonno. Io ho due foto di mio nonno. Una è del Bruscello e una è quella che è nella tomba. E questo è onestamente il ricordo che ho più forte di lui. Non l'ho visto, non l'ho conosciuto. E quindi per me questo è stato, diciamo, il motivo. I miei... Mio papà l'ha sempre fatto. Poi naturalmente lui lavorava a Siena, quindi c'erano dei periodi in cui non poteva. Però ecco, appena siamo tornati qui, io ho iniziato. Quindi il prossimo anno saranno 20 anni che faccio il Bruscello. E il discorso del ricordo. Il ricordo, i ricordi sono tantissimi. Al Bruscello non si definisce un ricordo più bello di un altro. Cioè, sono 20 giorni quelli delle prove in piazza, poi tutte le prove naturalmente che fai prima, sono 20 giorni, secondo me, bellissimi. E se non avessimo noi la passione di farli, diciamo che io non sarei qui, ecco, fondamentalmente. Cioè, se non trovassi veramente questa bellezza nello stare tutti insieme, nel divertirsi insieme, ecco, io probabilmente non sarei qui. Avrei fatto le ferie, avrei preso le mie ferie e sarei andata al mare. Detto ciò, il Bruscello che mi dà naturalmente più... che mi dà un ricordo sempre importante è Paolo e Francesca. Cioè, il primo in cui io sono stata protagonista. Poi, naturalmente, ci sono tanti. Il De Camerone è sicuramente il figlio più bello che io ho partorito, nel senso che è stata veramente l'apoteosi del divertimento scriverlo. e quindi, insomma, questi sono, diciamo, i ricordi più importanti che ho. Marco, lei parlava delle prove, 20 giorni di prove. Tu sei stato tutti i 20 giorni presenti. Come sono? Quali sono state le tue emozioni nel guidare un gruppo nello scenario naturale di Piazza Grande, nelle magiche notti di agosto? Quali sono le tue emozioni e come ti senti il giorno prima del debutto? Le emozioni, nel senso, creare interesse sulle persone che verranno a assistere e distoglierli dallo spettacolo di Piazza Grande non è facile. Perché Piazza Grande, ho detto, ieri sera sono passata anche quindi, affascino di per sé. Dobbiamo distoglierli da lì per dargli più interesse. Le prove non sono i 20 giorni qui, perché essendo un qualcosa di inedito, una cosa sconosciuta, io seguivo abbastanza le prove anche durante la preparazione iniziale dei cori o anche dei singoli proprio per entrare dentro. E è stato subito, c'è stata tanta gente che sono venuti e questa gente ha continuato a venire, è aumentata in continuo e questo dava un segno anche a noi positivo. Quindi la cosa stava funzionando, altrimenti non erano obbligati nessuno a venire, sono venuti fino a un fondo, sacrificando tanto, perché obiettivamente siamo qui dagli ultimi 20 giorni, dalla mattina alla sera. E quindi questa stanchezza che si accumula magari distoglie un po' dall'emozione. Quindi domani sicuramente sarò abbastanza più emozionato rispetto anche a oggi. Però rientra, diciamo, un po' nelle mie corde di non farlo vedere agli altri, perché chiaramente... E devi marchionare la calda. Esatto, quindi devo infondere fiducia, anche loro, ma fiducia che poi non c'è bisogno, perché a questo punto sono curioso, non vedo l'ora di arrivare domani sera per vederlo veramente realizzato. E allora anche noi non vediamo l'ora di vederlo domani sera sul Sagrato del Duomo. Io ringrazio i miei ospiti, vi ringrazio perché vi ho un po' rapito dalle prove. Vi lascio andare perché anche questa sera avrete le prove generali. Con loro ci ritroviamo domani alle ore di 21 e 15 circa sul Sagrato di Montepulciano per il 78esimo Bruscello di Montepulciano. Grazie a Letizia, a Luciano, Marco e Chiara per essere venuti qua all'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile. Grazie e noi torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo qua in diretta dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che tutte le settimane ci ospita nel nostro Giardino Valdichiana e è venuto a trovarci, anzi ringraziamo perché noi siamo loro ospiti, alla Manno Contucci. Alla Manno Contucci possiamo dire che quest'anno la famiglia Contucci ha un legame un po' con il Bruscello perché la conferenza stampa di presentazione domani, sabato, 12 agosto si terrà nel salone delle feste del Palazzo Contucci. Quindi c'è un po' un filo conduttore perché abbiamo scelto di fare Bruscello e poi a Manno Contucci. Ma prima di entrare a parlare della vostra vita attiva nel territorio di Montepulciano parliamo della cantina Contucci che possiamo dire che la vostra attività è nata già nel 1700 e è molto apprezzata, un vino molto apprezzato sia in Italia che all'estero. Qual è la storia della cantina e dove si trova? La nostra storia incomincia un po' prima del 1700 incomincia grosso modo nel 1008 quindi circa oltre mille anni fa quando ci insediamo a Montepulciano i miei antenati erano agricoltori e soprattutto essendo in collina per l'attività vinicola. Ora la cantina invece è collocata sotto il Palazzo da metà del 1600 lì facciamo il nostro prodotto e riceviamo i visitatori e i turisti che vengano fortunatamente a Montepulciano negli ultimi anni sempre più numerosi. Credo che sia l'unica cantina al mondo che in uno stesso locale proprio nel centro del centro storico di una città facciamo tutto perché lì arriva l'uva lì la vinifichiamo, lì la invecchiamo lì la mettiamo in bottiglia e lì la vendiamo quindi facciamo completamente tutto il ciclo in questa cantina nel centro storico questo ci crea obiettivamente un po' di difficoltà a livello operativo questo è intuitivo però ci dà un certo senso di importanza perché tutti ci dicono che siamo gli unici nel mondo perché in Francia gli chateaux sono sempre fuori da centri abitati in Toscana le fattorie sono sempre fuori da centri abitati perché lì si lavora più facilmente però noi abbiamo questa tradizione e la manteniamo Parliamo dei vostri prodotti come può essere descritto il vino nobile Contucci? Il nostro vino un po' rispecchia anche quello che è il nostro motto araldico che dice né viro set puritate vincor cioè non sono vinto né dalla forza né dall'uomo ma dalla purezza quindi noi privilegiamo più la delicatezza che la forza nel vino quindi un'armonizzazione tra le varie componenti anziché magari una struttura dominante che ci mancherebbe tanti altri colleghi fanno ma noi invece lo privilegiamo elegante da meditazione sincero e nobile insomma lo dice la parola stessa Senti ti do del tu eh tu hai ricevuto a Roma in Campidoglio il premio città del vino che rappresenta la capacità di tramandare l'attività vitivinicola nelle generazioni come avviene nella famiglia Contucci come si tramanda l'amore per il vino l'amore per il territorio e l'amore per i prodotti del territorio ma io sono la 42esima generazione dei Contucci che si dedicano al vino perché ho detto mille anni circa e esiste un cordone umbilicale evidentemente perché io per esempio ho fatto tutti i studi diversi da quelli che poi ora sto facendo con l'attività perché ho fatto il liceo classico ho fatto scienze politiche a Firenze con indirizzo diplomatico consolare a quell'epoca si chiamava così ora mi pare politico internazionale perché la mia vita professionale doveva essere in diplomazia però quando arrivai per fare il concorso alla Farnesina ero rivenuto qui per le vendemmie per l'attività agricola e sentivo una mano che mi tratteneva diceva no devi rimanere a Montepulciano devi continuare nell'attività familiare e così è stato e è stata poi la mia fortuna perché anziché essere andato io a giro per il mondo e sia ben chiaro quando uno inizia la carriera diplomatica non è che le sedi siano New York Parigi o Londra ma il Burguina Faso il Chad insomma sono sedi anche disagiate invece ho avuto la fortuna che il mondo è venuto a Montepulciano perché oramai da tutte le parti del mondo vengano a Montepulciano a conoscere le bellezze del territorio le bellezze naturali le bellezze archeologiche le bellezze dei monumenti di Montepulciano e la bontà dei nostri mangiari e soprattutto del nostro bere che è il vino nobile di Montepulciano insomma un vino apprezzato in tutto il mondo come dicevi tu americani tedeschi sempre più persone anche qui lo vediamo noi il venerdì infatti possiamo vedere turisti che girano per l'enoliteca ed assaggiano degustano il vino nobile un vino nobile che si sta sempre di più affermando nei paesi esteri sempre di più c'è da lavorare come in tutte le cose per migliorare che cosa può essere fatto per migliorare ancora di più la presenza del vino nobile nel mondo ma io credo a livello qualitativo continuare a fare quello che stiamo facendo negli ultimi 30 anni io sono stato per 20 anni circa presidente del consorzio del vino nobile nell'81 quando diventai presidente grosso modo si vendevano 500.000 bottiglie di vino nobile non esisteva ancora il rosso ora si vendono 10 milioni di bottiglie quindi in 35 anni evidentemente c'è stato un incremento esponenziale della vendita del vino e questo che vuol dire che i produttori e anche noi come Contucci si è cercato di fare bene cosa? nella ricerca della qualità nel capire che il confronto con gli altri fa sempre crescere non è che bisogna demonizzare gli altri anzi gli altri ci possono essere da stimolo per continuare a migliorare quindi una migliore a tipo agronomico quindi rinnovo dei vigneti che sono già stati fatti nei decenni ma bisogna stare sempre molto attenti perché il clima lo si vede quest'anno ma da oramai rispetto a quando ero ragazzina è completamente cambiato quindi cambiano le metodologie cambia il clima e quindi bisogna adeguarsi a livello agronomico in cantina rinnovare le botti che siano sempre nuove fresche che armonizzino bene le componenti del vino e poi fare un'azione di tipo promozionale per far sì che più gente possibile conosca il vino nobile e lo conosca per la qualità intrinseca del vino ma come ho detto anche perché a Montepulciano si vive bene si sta bene l'ambiente è spettacolare è quasi incontaminato le bellezze architettoniche ci sono la cultura la musica prima si parlava del Bruscello voglio ricordare che è vero dal 58 al 62 io sono stato primo ballerino del Trescone nel Bruscello vero quindi voglio dire anche la mia carriera di bruscellante è un po' datata ma insomma c'è stata e ecco quindi tutte queste cose fortunatamente richiamano a Montepulciano tanta cosa quindi su queste ormai filoni già codificati bisogna continuare a insistere a lavorare rimaniamo sul tema cultura Bruscello allora la famiglia Contucci è sempre molto attiva nel territorio dal punto di vista anche culturale artistico quest'anno tra l'altro ricorrono anche i 500 anni dalla prima posa del palazzo Contucci dove risiedete attualmente quali sono gli eventi che vengono fatti per ricordare questo importante compleanno e anniversario e come ci si sente ad abitare in un salotto naturale paesaggistico come è Montepulciano ma ci si trova senz'altro bene e si ritiene di essere dei privilegiati evidentemente e per quello che riguarda invece l'attività culturale generalmente in tutti gli anni facciamo qualcosa perché abbiamo anche la fortuna di avere un fortepiano importante è una chicca nel mondo musicale i cultori di musica lo ritengono come uno stradivare per i violini questo fortepiano Corrad Graff è un qualcosa quasi di unico e quindi facciamo dei concerti delle riunioni certamente quest'anno proprio per festeggiare i 500 anni abbiamo intensificato questa attività quindi si sono già fatte due due le faremo a settembre iniziative dove ci sarà c'è stata e ci sarà prima una conferenza che spiegherà alcune cose di Montepulciano e della nostra famiglia e poi un concerto che lo terrà la mia nipote Leonora Contucci che fa questo di professione perché fa il soprano oltretutto da tre anni il terzo anno quest'anno ha fatto il festival di Pasqua che è un'attività che nel periodo di Pasqua richiama artisti piuttosto importanti a Montepulciano e viene a volte fatto da noi abbiamo io da una trentina d'anni raccolgo immagine del palazzo dato i quadri al museo civico che ne ha fatto una mostra e quindi dal 10 di giugno fino al 31 di ottobre sarà aperta questa mostra il 16 per esempio di settembre ci sarà un annullo filatelico specifico sulla posa della prima pietra del palazzo insomma si cerca di fare qualcosa per abbiamo fatto un'etichetta specifica con il palazzo e i 500 anni che lo richiama quindi una serie di iniziative un po' per evidentemente orgoglio familiare ma un po' anche nel festeggiare i 500 anni del palazzo perché in quei momenti nel 500 soprattutto Montepulciano era importante quasi come Firenze e Roma e il palazzo Contucci era il centro e il fulcro delle attività lì c'è stato il papa Clemente VII il papa Paolo III Farnese Giulio III c'è stato Ferdinando I il granduca di Toscana il figlio Cosimo II il figlio del figlio Ferdinando II Cristina di Lorena quindi era proprio un centro chiamiamo di potere di quell'epoca e delle attività che si svolgevano intorno a Montepulciano quindi l'aver fatto queste iniziative a favore della famiglia Contucci però è stata una serie di attività di ricerca che ha tirato fuori quello che Montepulciano era in quell'epoca non c'è compleanno senza un brindisi dobbiamo fare un brindisi con il vino Contucci allora di solito io chiedo le tre caratteristiche però tu mi hai dato uno spunto per farti un'altra domanda tu hai incontrato nella tua vita tanti personaggi importanti famosi c'è un brindisi particolare che ricordi più degli altri? io ricordo un brindisi fatto quando io ero però bambinetto lo ricordo perché è importante per lontanissima parentela perché la mia mamma e la mia nonna mia nonna era alzaziana ma insomma avevamo questa accendente francese eravamo imparentati molto lontano col filosofo Gabriele Marcell che venne a Montepulciano e proprio nel salone delle feste apprezzò tanto questo vino e quindi io mi ricordo il mio babbo la mia mamma il mio fratello più grande che era già grandicello io avevo 7-8 anni che intorno a questo vino filosofavano e quindi la filosofia era un po' al centro di questo cercare di vivere bene cosa ci deve trasmettere il vino la capacità di vivere in pace con se stesse e soprattutto in pace con gli altri nel rapporto con gli altri perché intorno a un buon bicchiere di vino si creano gli amicizie gli amori e bisogna però essere sempre freschi con la mente perché il vino va bevuto ma non bisogna farsi bere dal vino ecco e quindi e allora cincina al nobile al nobile di nuovo in diretta dall'enoliteca del consorzio del vino nobile di Montepulciano continuiamo a parlare di territorio di prodotti del territorio e questa volta lo facciamo con Roberto Betti presidente dell'associazione geoarcheologica di Chianciano Terme grazie e benvenuto anche a te ti do del tu qua nella bellissima enoliteca del consorzio del vino nobile associazione geoarcheologica di Chianciano Terme nata nel 1985 che opera a livello volontario sul territorio nel campo della riscoperta della tutela e della valorizzazione del patrimonio geoarcheologico ma Roberto andiamo un po' più sullo specifico di cosa si occupa l'associazione chi ne fa parte e quali sono i risultati dall'85 ad oggi l'associazione nata come ha detto a te nell'85 si occupa di ricerca archeologica di conservazione quindi anche di restauro ma più che altro conoscenza del territorio approfondimento storico delle conoscenze del territorio perché archeologia sola senza conoscenza del territorio è limitato il discorso quindi la cosa più importante ci dedichiamo alla scoperta la riscoperta con escursioni con i nostri soci per conoscere molto sempre meglio il territorio ma comunque facciamo tante cose facciamo le guide al museo facciamo di tutto insomma pubblicazioni anche importanti edizioni sulla nostra storia ogni dieci anni ne facciamo una poi facciamo ultimamente abbiamo fatto ripubblicato per la prima volta gli statuti del 1544 del comune di Tianciano poi molte altre cose che poi avremo modo di approfondire io ti ho invitato perché nelle nostre puntate precedenti abbiamo parlato anche un po' degli etruschi perché se la regia i nostri bravissimi ragazzi della Lightning riescono poi mentre noi parliamo ad inquadrare il pavimento qua sotto nel pavimento delle Noliteca sono stati ritrovati delle cisterne etrusche il nostro territorio è molto legato agli etruschi ma io mi permetterei di avere dei dubbi sull'origine etrusca di queste cose io ho sentito una conferenza di Pizzinelli dell'architetto quale sostiene per il momento che è stato appurato un impianto medievale però non è stato fatto ulteriori approfondimenti perché il problema era la stabilità della struttura può darsi che sotto c'erano anche gli etruschi però per il momento io anzi chiedevo se esiste una pubblicazione su questa cosa perché non mi risulta vorrei conoscere meglio e approfondire questa cosa perché la presenza degli etruschi a Montepulciano è molto dubbia incerta vorrei avermi una maggiore prove mentre uscendo da Montepulciano un po' il nostro territorio comunque ci sono delle testimonianze sui nostri degli etruschi ah vuoi parlare di questo vabbè niente gli etruschi per noi ormai è una cosa che abbiamo scoperto molte cose da due necropoli a tre templi agli insediamenti a 1500 tombe etrusche quindi voglio dire abbiamo 30.000 oggetti al museo quindi su questo 140 canopi con tutto il corredo completo quindi la nostra la nostra ricerca ha dato dei frutti straordinari ma il museo richianciano il museo etruschi è considerato uno dei migliori musei esistenti per l'etruscologia perché è frutto di scavi recenti e quindi è tutto documentato abbiamo ricostruito completamente le tombe etrusche così come erano state concepite e quindi veramente siamo orgogliosi di questo risultato tra l'altro noi abbiamo 200 soci che si dedicano all'attività continuo abbiamo una ventina di guide professionali ormai che guidano i turisti che guidano le scolaresche che guidano gli appassionati quindi veramente da questo punto di vista possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto ecco rimaniamo sul museo etrusco di Chianciano che cosa un turista che cosa può trovare all'interno del museo al di là della ricostruzione delle tombe sono quattro piani cominciamo dall'interrato c'è una mostra sul 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 il mito particolarmente legata alla guerra di Troia con invasi figurati dove c'è stata la ricostruzione fatta da noi del grande scudo di Achille di cui c'è la descrizione molto bella nelle neide e poi c'è la mostra sulla donna etrusca anzi te sarebbe il caso che tu venissi a vederlo perché non può una giornalista occuparsi di queste cose e non venire a vedere il museo ma chi lo dice che io non ci sei stato non ci sei stato allora lo so perché ho le spie poi abbiamo dei grandi vasi straordinari che tra l'altro vengono anche dal restauro da poco tempo sul percorso dell'oltretomba da parte del defunto etrusco verso l'aldilà questo è un tema che affascina è legato a questo completamente tutto poi abbiamo 40 tombe ricostruite fedelmente al piano terreno al piano successivo abbiamo una tomba principesca del 540 avanti Cristo del 640 del 640 settimo secolo altre tombe di quinto secolo al piano superiore abbiamo tutto quello che proviene da tre templi etruschi comprese le statue compreso tutto la grande bigga di Silene di Silene di Diana la statua di culto di Diana che da qui vabbè ecco il legame tra territorio e archeologia uno storico settecentesco diceva non riesce a capire come mai la gente di qui chiama Silene questi luoghi e poi un secolo dopo si è scoperto perché lì c'era un tempio dedicato a Diana in italiano Silene i romani che lo conoscevano come Selene Dea Luna e lì c'era un tempio dedicato a Diana da cui prende il nome Silene lo stabilimento ecco come i toponimi sono importanti per cui queste cose insomma vorrei approfondirle ecco ci sarà modo ci sarà modo ci sarà modo la valdichiana è sempre sempre pronta ad accogliere nuovi temi e nuovi termini però rimaniamo un attimo sugli etruschi siccome nel museo a Chianciano c'è tanta la mostra sul banchetto è fantastico parliamo di banchetto parliamo di vino il rapporto degli etruschi con il vino eh sì poi sull'acqua ti faccio un'altra domanda però allora niente il vino e l'acqua sono fondamentali non solo perché erano degli alimenti fondamentali del banchetto cioè il banchetto premesso che era la festa con cui si faceva si auspicava il buon viaggio verso l'altra tomba vedi che ritorna continuamente il concetto del passaggio però gli alimenti fondamentali del banchetto erano la carne e il vino però il vino mai solo sempre misto all'acqua perché si faceva nel cratere si mischiava il vino con l'acqua e quindi non era acqua termale medicamentosa era acqua comune però il vino era un po' denso il suo dovevo essere deluito e quindi si usciva tre quarti di acqua e un quarto di vino poi si prendeva si attingeva si beveva ma il vino faceva schifo mica era come quello ma mica vorrei mettere il vino di oggi era apprezzato perché era alcolico sta attento alla fortuna del vino anche ora è data dal fatto che è alcolico la gente lo beve perché c'è l'alcol dentro e così anche gli antichi gli etruschi apprezzavano che c'era l'alcol poi che era buono o no è un altro discorso quello faceva parte quello ci pensa il consorzio del vino nobile a tutelare il vino a proposito di acqua voi avete scritto un libro uno in particolare che è quello della valle dei mulini della parcia che ci riguarda da vicino che è da Sant'Albino al chiaro di Montepulciano quindi in questo libro si rimarca oltre al vino l'origine insomma dell'acqua nella Val di Chiana però voglio dirti che sulle acque termali di Chianciano sono stati edificati tre templi etruschi e non a caso che è finita peccato allora tre templi etruschi capito che si devono anche addirittura si parla di Porzenna perché voleva fare lì un luogo sacro dove unificare la nazione utrisca attraverso la religione in particolare suddiana e lì c'è il tempio del Zillene il tempio di Fucco e il tempio anche all'acqua sana vabbè parte questo quindi gli etruschi gli etruschi hanno usato le sorgenti come presenza come dono alle divinità facendo i templi lì invece con i romani si è cominciato a sfruttarle terapeuticamente lì c'è tra l'altro uno scavo su uno stabilimento termale romano fantastico vabbè insomma a parte questo parliamo invece della cosa che vi interessa di più è stato un divertimento fantastico quello di scoprire questi 20 musei voi non lo sapete c'è 20 mulini che cominciano dall'alto di Sant'Albino quel mulino grosso mulino grosso che nessuno sa più dove era e ve l'ho scoperto io non abbiamo scoperto noi si è trovato le strutture e penso all'acqua della parcia la portavano a 100 metri più alta perché il mulino grosso è a 100 metri superiore o 40 50 e quindi con dei meccanismi strani e da lì poi il percorso io l'ho seguito tutto con i gorelli con le gore fino al lago di Montepulciano 20 mulini che segnano la storia di quel territorio perché i mulini in quel momento erano l'economia del territorio si è finito? ancora no oltre a questo libro tu mi hai detto che ne avete scritti altri l'acqua è fondamentale l'acqua è la storia delle acque termali di Chianciano dalle origini ai nostri giorni poi ho scritto un saggio sul termalismo della provincia di Siena che è stato pubblicato in una in una strena libro strena della banca quindi io mi sono occupato di termalismo anche perché io per 30 anni ho fatto il direttore della PT di Chianciano non a caso queste cose le so anche per questo insomma perché io ho legato la professionalità nel mio lavoro con la ricerca storica io nasco come ricercatore storico di storia locale perché non si può fare professionalmente il turismo se non si conosce il territorio e non si conosce la storia del territorio quindi all'archeologia ci sono arrivato attraverso gli approfondimenti di storia locale perché là dove non arrivano documenti scritti c'è solo l'archeologia e quindi l'archeologia come scienza non come scoperta dei tesori ma come scienza che permette di andare oltre la conoscenza scritta allora ultima domanda visto che si parla di turismo secondo te che cosa manca a questo territorio per farsi conoscere ancora di più non manca niente speriamo convenga tanta gente perché il problema di fondo ragazzi non è quella di inflazionare queste cose con una presenza massiccia di massa che distorce tutto e distrugge tutto bisogna valorizzare la qualità la qualità però per valorizzare la qualità c'è una contraddizione non si può vendere tutto vendere tutto a qualsiasi costo e poi avere la qualità non esiste quindi bisogna un momentino turismo recuperando gli errori sono tifati da tutti anche io che mi sono occupato di turismo il problema era creare lo sviluppo comunque perché c'era una pressione da parte degli operatori degli avvergatori dei commercianti che comunque i clienti vanno assolutamente incrementati capito a prescindere e questo provoca delle distorsioni qua alla fine e bisognerebbe avere un equilibrio tra lo sviluppo e la qualità sviluppo e qualità allora ringraziamo Roberto Betti per essere venuto qua e perché ci ha dato tanti spunti che il nostro antropologo della redazione sicuramente sfrutterà al meglio per raccontarvi a voi della Val di Chiana torniamo subitissimo con un altro ospite rimanete lì e non ci abbandonate ciao a tutti dopo eccoci di nuovo qua ultimo blocco di trasmissione sempre in diretta dall'enoliteca del Consorzio del Vino Nobile che tutti i venerdì gentilmente ci ospita per il nostro giardino Val di Chiana Summer Edition 2017 è venuto a trovarci un amico del Consorzio del Vino Nobile ovvero il dottor Giorgio Ciacci endocrinologo ma anche esperto di stili di vita alimentazione nonché consulente scientifico dell'UPMC di Chianciano Terme grazie per aver accettato il nostro invito qua questa sera allora il filo conduttore delle nostre puntate è il vino e il territorio prima però di entrare nel merito di questi temi di questi di questi argomenti visto che in questi giorni è stato particolarmente caldo ci sono stati problemi legati anche magari all'alimentazione perché magari uno non mangiava tanto era disidratato non ce la faceva più a bere perché magari l'acqua non lo dissetava più come si fa a fronteggiare delle temperature calde con l'alimentazione e recuperare quelle energie per affrontare giorni con caldo particolare dei giorni passati buonasera a tutti buonasera a telespettatori come si fa si fa idratandosi cioè bere più del solito ma anche mangiare quegli alimenti che contengono acqua quindi frutta e tanta verdura questa è la dieta estiva ed è una dieta che da noi è facilmente fattibile perché con tutti i nostri prodotti a chilometro zero e del nostro territorio e primo fra tutti ora il pomodoro che contiene già una buona quantità di acqua e poi ancora il cocomero il melone è abbastanza facile e anche piacevole fare una dieta del genere quindi molta verdura frutta e poi alimenti leggeri magari freddi e non caldi e soprattutto frazionandoli durante la giornata una prima colazione ad esempio a base di yogurt di frutta e perché no qualche biscotto inframezzato durante la mattina da un altro frutto o da un comunque da una bibita non zuccherina un pranzo leggero ancora un piccolo spuntino nel pomeriggio e un'altra cena magari all'aperto il vino allora nelle settimane passate abbiamo ospitato la Fisar Valdichiana con Nicola Masiello dove ci ha spiegato che nonostante le calde temperature è possibile bere vino rosso ad una temperatura costante di 18 gradi quali sono le caratteristiche del vino nobile come può essere degustato al meglio nonostante queste temperature ma i vini di Montepulciano sono dei grandissimi vini ma io vorrei distinguere fra due grandi aspetti nel vino che poi lo si ritrova anche negli alimenti e cioè da una parte il piacere di gustare un certo tipo di alimento in questo caso il vino perché il vino è un alimento nel senso che ci dà delle calorie e quindi è considerato come l'olio un alimento e quindi prima di tutto il piacere di gustare e di concentrarsi su quello che si sta facendo questo concetto è valido sia per il vino ma è valido per tutti gli alimenti cioè quello che si chiama il qui e ora molto spesso purtroppo oggi ci si nutre e ci si alimenta senza pensare veramente a ciò che si sta facendo in quel momento ma ad altro ecco il cibo ma anche il vino sono così importanti per il nostro corpo e per la nostra mente che distrarsi in questi momenti è veramente un peccato e il vino nobile è uno di questi il rosso e il vino nobile di Montepulciano sono grandi compagni di viaggio della nostra vita e quindi si possano apprezzare anche durante l'estate certamente deve essere una assunzione consapevole ed è l'ora di dire che al vino ci si deve avvicinare con tranquillità con sicurezza e con piacere sapendo a cosa si va incontro e quindi sfruttando tutta l'esperienza piacevole di bersi un bicchiere di vino piuttosto che aver paura che il vino faccia male il vino è un grande alimento tra l'altro che ci aiuta nella nostra salute perché contiene delle quantità tra l'altro i nostri vini ne contengono grandi quantità di polifenoli i polifenoli di cui il primo fu il rosveratrolo sono dei antiradicali liberi che cosa significa che riescono a distruggere queste sostanze che fanno invecchiare le nostre cellule questo vale per l'invecchiamento generale ma vale anche per i tumori tutto questo è contenuto in vari alimenti tra cui il vino che è stato il primo quindi ricordarsi che bere vino non fa assolutamente male se si seguono delle piccole regole ecco tu ti do del tuo ormai continuiamo il filone di questa puntata hai ribadito l'importanza di mangiare ma non nel semplice atto di mangiare ma proprio compiere un viaggio di sensazioni e di emozioni è un po' quello che i vari operatori del nostro territorio stanno facendo cercando di recuperare quei vecchi magari prodotti che non venivano più recuperati ecco quanto è importante mangiare consapevolmente e lavorare più sull'emotività fa bene anche dal punto di vista della salute certo ogni giorno credo che si può fare un'esperienza a tavola se si dedica un po' più di tempo proprio all'alimentazione io continuo a dire che uno dei luoghi più importanti della casa è proprio la cucina e continuo a dire che la cucina non è un luogo di passaggio ma è un luogo da vivere quindi bisogna prendersi un pochino più di tempo almeno una volta al giorno spengere il televisore allontanare i cellulari e stare a tavola lo stare a tavola è una grande tradizione italiana siamo maestri in questo sicuramente più dei francesi e riusciamo bene a organizzare i nostri convivi la conviviale ecco di questo ce ne siamo purtroppo un po' troppo dimenticati quindi bisogna iniziare dal fare la spesa poi portarsi a casa dei buoni prodotti possibilmente locali e cucinare fare proprio questo percorso completo e dedicarsi alla cucina e all'alimentazione in questo senso questo ci porterà sicuramente avere più piacere ma nello stesso tempo a far bene alla nostra salute tu questi metodi per gustare al meglio i prodotti del nostro territorio ne hai trattato nei tuoi due libri uno è buono come ammenza e l'altro i colori dei libri uno è stato anche patrocinato dall'Expo 2015 che sono sì diretti ai bambini però tramite i bambini appunto si crea gli adulti escono fuori gli adulti del domani quindi educazione come prevenzione tutela della salute per gli adulti del futuro sì finalmente la parola prevenzione incomincia veramente ad essere scritta con la lettera maiuscola e sembrerebbe che anche dopo Expo che ha avuto il pregio di lanciare questo grande messaggio e far capire che la nostra salute è anche la salute dell'ambiente quindi viaggiamo insieme non siamo più due mondi separati ma siamo noi responsabili della nostra salute e della salute dell'ambiente questo è stato il messaggio fondamentale di Expo perché questo bisogna partire presto certamente molto presto già dalla scuola primaria e lo scopo di questo piccolo volume è stato proprio questo di lavorare sulla mensa scolastica che è uno dei luoghi del cibo in cui molto spesso si creano molte discussioni e poche convergenze in verità ecco la scuola e la famiglia possono essere dei grandi strumenti per far sì che il bambino si avvicini al mondo del cibo con maggiore serenità con maggiore gioia e anche direi giocando proprio e che impari la sana alimentazione creare degli adulti più sani significa un domani avere meno malattie ma viste la situazione di oggi è anche lasciare tutte le risorse economiche a chi veramente ne avrà bisogno quindi ci vuole molta attenzione io credo che star bene sia è vero un diritto ma forse un domani potrebbe diventare anche un dovere un dovere appunto proprio dalla corretta alimentazione c'è anche una tutela per l'ambiente perché riscoprendo i prodotti antichi e di una volta si riesce anche a tutelare l'ambiente è un gioco che bisogna fare tutti insieme e noi io dico sempre siamo particolarmente fortunati perché vivere in questi territori è ogni giorno un riscoprire colori luci emozioni suoni e anche odori che il nostro territorio ci dà per cui è veramente una grande fortuna abitare qui e lo si vede da come i turisti non solo italiani ma soprattutto stranieri si innamorino delle nostre zone ecco anche noi dobbiamo continuare ad essere innamorati delle nostre zone e proteggerle da tutti i punti di vista e anche nei prodotti locali prima di andare a fare il brindisi un altro tema molto legato all'alimentazione di cui se ne parla sempre a fine estate com'è per tutelare per prolungare l'abbronzatura l'alimentazione adatta per prolungare l'abbronzatura con i prodotti locali ma sulla abbronzatura intanto ricordiamoci che stare al sole fa bene se una delle recenti direi novità in cui si sta lavorando è quella proprio del dosaggio della vitamina D questa vitamina che ci facilita l'assorbimento del calcio e quindi in qualche modo è legata alla stabilità delle nostre ossa ecco anche da noi dove apparentemente specialmente quest'anno abbiamo avuto delle lunghissime periodi di sole in verità se andiamo a dosare la vitamina D molto spesso la troviamo insufficiente o sottodosata nel sangue questo perché tutti noi viviamo soprattutto all'interno viviamo nelle stanze stiamo davanti al computer facciamo dei lavori sedentari a differenza di tanti anni fa dove parte almeno della popolazione viveva nei campi e quindi spontaneamente stava al sole quindi sul sole direi ricordiamoci che stare al sole fa bene con quelle precauzioni che devono essere prese prima di tutto nei bambini piccoli in maniera che non abbiano quelle prelesioni che potrebbero portare indomani a sviluppare questo pericoloso tumore della pelle che è il melanoma ma un'esposizione graduale e continuata durante l'estate non ci può che far bene come prolungare l'abbronzatura alcuni alimenti soprattutto quelli arancioni contengono una vitamina che facilita diciamo il mantenimento della bronzatura grazie alla colorazione dei melanociti che sono le cellule della pelle ma io direi che anche questo fa parte un po' del periodo estivo e del piacere di vivere all'esterno questa bellissima stagione che è l'estate quindi prolunghiamo le nostre giornate al sole ricordandosi che stare bene produce anche endorfine e quindi in qualche modo ci aumenta anche le nostre difese e mangiare fuori stare fuori con gli amici passare una bella serata senza pensare a tutti i problemi di ogni giorno farà sicuramente bene specialmente se scaldati dal sole allora scaldati dal sole prodotti tipici e locali soprattutto e un buon vino rosso allora io ti ringrazio per essere stato nostro ospite qua a Giardino Valdichiana io ringrazio voi per essere per aver seguito la nostra puntata ringrazio la regia fantastica dei Lightning e la mia redazione vi do appuntamento a sub venerdì prossimo venerdì 18 agosto continuate a seguire tutti gli aggiornamenti della Valdichiana e cin cin all'estate al sole al vino grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori